Perché il 4 agosto io sto con i pantaloni lunghi, le calosce e il caschetto? Perché a me li faceva troppo caldo. E mi piace così. È la giornata perfetta per andarsi a spaccare la schiena nell'emissario. Mi stanno d'incanto. Quando il mare non ti basta esercizi per le cosce. Il tunnel è lungo poco più di un chilometro e sei ed è percorribile a piedi, tranquillamente quasi in tutte le parti. Il curicolo si restringe in alcuni punti e si abbassa veramente tanto fino all'uscita verso Valle Riccia in cui bisogna camminare veramente a quattro attacchi. Oh, bellissimo questo. Che cos'è? Un canale di una via di fuga? Un colo di Mauro. Quasi a Carponi. Questo percorso è sconsigliabile a chi soffre di claustrofobia, chi non ha maglia di malacci e chi è alto due metri e mezzo. Sì. Ai vostri lati potete vedere delle concrezioni che si stanno creando a causa dell'infiltrazione di calcio. E' importante non toccarli perché queste sono delle stalattiti che si stanno creando. Se vengono toccate si interrompe la crescita. Comunque probabilmente fra un centinaio, duecento anni, trecento anni avremo delle stalattiti complete. Torniamo e ve le vediamo. Con calma torniamo. Eccola, in diretta l'ho presa questa. Questo è l'animalaccio di Blue River Loud. Welcome to Valericcia. Se volete visitare l'emissario del lago di Nemi fate affidamento a Alessandra e Alessandro. Vi lascio tutti i link in descrizione e contattateli lì. Ciao. Ciao. Ciao.